Nicaragua e Costa Rica in stato di massima allerta a causa della tempesta tropicale 8 diventata uragano secondo i dati del centro nazionale uragani basato a Miami in Florida. La tempesta aveva già causato la morte di 4 persone al momento del suo passaggio sulle coste di Panama con venti di circa 70 km orari. Ora le condizioni del fenomeno meteorologico si sono fatte più preoccupanti, la velocità dei venti è salita oltre i 120 km all'ora e l'uragano si avvicina rapidamente al Costa Rica. Chiuse le scuole e gli aeroporti, già prevista l'evacuazione di migliaia di persone nelle aree interessate dal fenomeno.